Ieri abbiamo pubblicato l'avviso per l'erogazione di assegni a favore di tutte quelle persone che purtroppo versano in condizione di disabilità gravissima. È un contributo che viene dato soprattutto a favore delle famiglie che nel silenzio accudiscono e hanno premura dei propri familiari, onde evitare che queste persone debbano essere per forza ricoverate. È un contributo che va da 400 euro a 1000 euro mensili a seconda dell'ISEE e il bando e la domanda possono essere scaricati dal sito del comune e poi una volta compilate verranno depositate o all'ufficio protocollo o inviate tramite PEC o posta raccomandata. Questo è un ulteriore aiuto che l'amministrazione intende dare a tutte quelle persone che appunto si trovano in una situazione di disagio e soprattutto a tutte quelle famiglie che avendo un caro in una determinata condizione lo aiutano nel silenzio e quotidianamente.